Cari amici di Caffeina, la finale dell'Isola dei Famosi è a rischio. Giungono brutte notizie dall'Honduras e la puntata che dovrebbe decretare il vincitore dell'edizione 2023 è molto dubbia. Ma cosa sta succedendo? Purtroppo bisogna dire che questa non è stata un'edizione da record. Gli ascolti sono calati, probabilmente a causa degli infortuni dei naufraghi che hanno abbandonato l'isola e anche a causa delle poche dinamiche create-si nel gruppo. In ultimo poi, la morte di Silvio Berlusconi ha condizionato molto i palinsesti. E come se non bastasse, la finalissima potrebbe saltare a causa del maltempo. Tutto ciò è stato confermato da Alvin, che si è dichiarato preoccupato dalle possibili tempeste e dal mare grosso. Le previsioni sono catastrofiche. E in più, con il maltempo, i concorrenti non potrebbero neanche fare le prove in acqua. Insomma, anche se i sei finalisti sembrano essere pronti, gli ostacoli potrebbero metterci lo zampino. Quindi stasera sarà un'avventura. E voi? Chi pensate che vincerà l'isola dei famosi? Le previsioni danno vincitore Marco Mazzoli. Voi che ne dite? Alla prossima!